Tragedia nel pomeriggio di mercoledì in una zona impervia del comune di Prato Vecchio Stia, nella zona di Papiano. Un bambino di 12 anni, Giacomo Brancadoro, è morto dopo essere stato travolto da una catasta di legna. Il drammatico episodio si è verificato in località Casa dell'Oia, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il piccolo, insieme ad un gruppo di coetanei provenienti da Milano, stava percorrendo un cammino per arrivare fino a Montalto. Nella notte di mercoledì avrebbero infatti dovuto alloggiare in un camping a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Il gruppo si era fermato per fare una sosta e per pranzare in zona Casa dell'Oia, intorno alle 13, e poi riprendere così il loro cammino. Il dramma si è consumato proprio in questi momenti di relax, quando una catasta di legna, probabilmente smossa dai ragazzi che stavano giocando, ha travolto il dodicenne. Sul posto si sono precipitati i volontari del soccorso alpino della stazione di Monte Falterona, oltre all'elisoccorso Pegaso della regione toscana partito da Grosseto e l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Altri sanitari sono arrivati con un fuoristrada allestito dai pompieri. Il bambino era andato una prima volta in arresto cardiaco ma era stato rianimato ed intubato, prima di essere recuperato con il vericello dall'elisoccorso ormai pronto a trasferirlo al Meyer di Firenze. Purtroppo il piccolo ha avuto un secondo arresto cardiaco e questa volta non c'è stato niente da fare. Un altro bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico fiorentino in stato di sciocco e con una gamba fratturata. Sul posto è intervenuta anche la forestale e gli ispettori del lavoro della USLA.